Correre la maratona è il sogno di ogni runner. Prima o poi tutti vogliono confrontarsi con la distanza di 42 km e 195 metri. In questo video vedremo quali sono i tre aspetti fondamentali, anche partendo da zero, per arrivare fino al traguardo. Negli ultimi anni ho aiutato centinaia di runners nel preparare la distanza regina. Alcuni alla ricerca del proprio personal best, altri partendo da zero o addirittura da sotto zero. Una volta mi è capitato di aiutare una dottoressa di 50 anni che non correva dalle scuole medie e in 18 mesi l'ho portata letteralmente dalla poltrona alla maratona di New York. Mi ricordo che quando ho iniziato non riusciva a correre neanche un minuto consecutivo senza affaticarsi. Quindi se c'è riuscita lei c'è speranza per tutti. La ricetta magica comprende tre elementi. Il metodo, la costanza e la motivazione. Vediamo ogni aspetto nel dettaglio. Il metodo consiste nel programma di allenamento che dobbiamo seguire per arrivare al traguardo. Per i principianti o perché inizia da zero, il modello prestativo più efficace è il Run-Walk-Run. Metodo di allenamento sviluppato dal coach americano Jeff Galloway, che consiste nell'alternare intervalli di corsa a tratti di cammino, in modo da aumentare il volume di allenamento e ridurre il carico muscolare, riducendo così il rischio di infortuni. Abbiamo già girato un video su questo argomento. Ti riassumo brevemente i concetti chiave. Per i principianti è fondamentale alternare con frequenza i tratti di corsa e cammino, senza arrivare ad accumulare eccessiva fatica. Non ha senso forzarsi ad allungare gli intervalli di corsa. Soprattutto all'inizio è meglio utilizzare intervalli brevi. Con il tempo si aumenterà la distanza di corsa e si ridurranno i tratti di cammino. Gli intervalli dipendono dal vostro livello di fitness. C'è chi inizia camminando 4 minuti e correndo 1 minuto e chi invece corre 2 minuti e cammina 1 minuto. Sta a te o a chi ti segue capire l'intervallo più efficace. L'intensità deve rimanere ad un ritmo aerobico. Non sono delle ripetute da correre ad alta intensità. Un neofita deve costruire un buon motore aerobico prima di pensare alla velocità. O finirà vittima della cosiddetta sindrome da deficit aerobico. Anche questo argomento è stato trattato in un video specifico che ti consiglio di andare a guardare. Per i primi 6 mesi un neofita dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla costruzione della base aerobica, limitandosi ad attività a bassa o moderata intensità. Per arrivare alla distanza maratona sarà necessario stare molte ore sulle gambe, soprattutto durante gli allenamenti lunghi. Anche qui alternare corse e cammino ci permetterà di aumentare gradualmente il carico, fino ad arrivare ad almeno un 80% della distanza gara. Secondo ingrediente indispensabile è la costanza. Per arrivare a correre una maratona dobbiamo abituare il nostro corpo e per farlo dobbiamo allenarci frequentemente e senza concederci periodi prolungati di stop. La frequenza di allenamento minima per preparare una maratona è di 3 corse alla settimana. Per chi inizia è anche la dose massima per non farsi male. Oltre alle 3 attività di corsa, quando possibile consiglio di inserire delle uscite a isola camminata, attività di potenziamento funzionale alla corsa e delle sedute specifiche per la tecnica di corsa. Perché se non sai correre prima o poi finirai per farti male e così dovrai interrompere gli allenamenti. E addio Costanza! Costanza significa allenarsi anche quando fuori piove, quando fa freddo, quando siamo in ferie o in vacanza. Ovvio non deve diventare un'ossessione ma una buona e sana abitudine. Chi come me corre da anni non riesce assolutamente a stare neanche una settimana senza fare una bella corsetta. E qui interviene il terzo ingrediente, la motivazione. Se non si è sufficientemente motivati, difficilmente si riuscirà nell'impresa di correre una maratona. Come prima cosa dovresti chiederti perché vuoi farlo e quanto sei disposto ad impegnarti per questo obiettivo. Ti dico fin da subito che non sarà facile. Ci saranno alcuni giorni in cui non hai voglia di allenarti, alcuni allenamenti saranno faticosi, altri noiosi e le condizioni climatiche non saranno sempre ideali. Quindi prima di iniziare devi essere sicuro al 110% delle tue intenzioni. Un trucco che molto spesso funziona è quello di dichiarare pubblicamente che si vuole correre una maratona. Così facendo non avrai più scuse e non sarà facile tirarsi indietro. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici che vorrebbero preparare una maratona. Inoltre se non l'hai ancora fatto ti consiglio di iscriverti al nostro canale YouTube. Basta cliccare sul bottone qui in basso per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Preparare una maratona partendo da zero o comunque essendo abituati a percorrere pochi chilometri non è facile. Per questo motivo, oltre alle indicazioni che ti ho fornito in questo video, il consiglio principale che mi sento di darti è quello di farti affiancare da un coach specializzato nella preparazione della maratona. Che sappia strutturare gli allenamenti in funzione delle tue esigenze e aumentare gradualmente il carico per portarti in maniera sicura ed efficace alla maratona. Un bravo coach sarà in grado anche di mantenerti motivato nei periodi in cui la motivazione scende. Così da farti mantenere la costanza necessaria a raggiungere il tuo traguardo. Se al momento non puoi permetterti un coach, ti sconsiglio di utilizzare le tabelle preimpostate che trovi su internet. Sono troppo generali e non adatte a nessuno nello specifico. Piuttosto leggi, informati e sperimenta su te stesso ascoltando le sensazioni e rispettando il tuo corpo. Potrei continuare a parlare della preparazione maratona ancora a lungo. In questo video mi sono soffermato sulle basi per chi intende iniziare la preparazione. Se l'argomento risulta di vostro interesse, approfondiremo con altri contenuti dedicati. Magari soffermandoci maggiormente sulla preparazione per i runner evoluti. Come al solito ti chiedo di scrivere qui sotto nei commenti per farmi sapere se hai apprezzato questo contenuto e se hai eventuali domande. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao! 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 Ciao!